Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'emergenza sanitaria, cresce la preoccupazione a Torre del Greco per la variante Delta. L'ASL Napoli 3 Sud fa chiarezza sui numeri e da lunedì decade l'obbligo di indossare mascherine all'aperto. Abbiamo ascoltato che cosa ne pensano i cittadini torresi. Spazio poi alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto una frode fiscale sequestrato beni per 60 milioni di euro. Controlli invece sul fronte ambientale dei carabinieri, rinvenuti rifiuti di ogni genere nella zona di Marigliano. Torniamo a Torre del Greco per parlare di sport. Presentato il nuovo organigramma delle giovanili della Turis. Sembrerebbe essere in bilico invece la campagna abbonamenti. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Continua a preoccupare la situazione della variante Delta a Torre del Greco. Nelle ultime ore infatti sono stati aggiornati i dati che rendono la città corallina come il maggior focolaio locale della variante indiana. Tuttavia l'ufficio stampa della SNAPOLI 3 Sud fa chiarezza attraverso un comunicato stampa. 27 in tutto i positivi alla variante Delta e sono tutti riconducibili ai 44 casi già registrati nelle scorse settimane. La nota arriva dopo che la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera ha effettuato un nuovo controllo sui dati forniti dai laboratori, chiamati ad analizzare i tamponi eseguiti nella città vesuviana. Sulla scorta di quest'ulteriore verifica è stato appurato, si legge, che i 27 casi non sono da ritenersi nuovi, ma invece si tratta di quelli attualmente attivi sulla scorta dei soggetti nel frattempo guariti. Resta invece il dato secondo cui di questi 27 positivi uno è attualmente ospedalizzato, due risultano del tutto asintomatici, mentre i 24 sono paucisintomatici, cioè con piccoli sintomi per ora gestibili dal regime di isolamento domiciliare. In totale, a Torre del Greco, i cittadini positivi sono invece 83, stando ai dati serali forniti dal centro operativo comunale, con 15 soggetti ad ora ospedalizzati. Per evitare che la diffusione della variante possa complicare il piano di apertura, l'obiettivo dichiarato del governo è quello di vaccinare il prima possibile. È ormai noto, infatti, che la mutazione del Covid ha una contagiosità decisamente superiore a quella inglese. Da lunedì 28 cadrà l'obbligo di mascherina all'aperto. Dopo il passaggio della Campania in zona bianca, che ha visto così decadere tutte le misure restrittive dal Covid-19, l'Italia si prepara ad un nuovo cambiamento. Non sarà più obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione, quali mascherine e visiere, nei luoghi aperti, laddove sia possibile evitare assembramenti di ogni tipo. Proprio a ridosso della fatidica data di abolizione, genera preoccupazione la variante Delta e i 44 casi accertati a Torre del Greco. Abbiamo ascoltato i cittadini torresi. Da lunedì legate l'obbligo della mascherina, cosa ne pensa? Penso che è bene perché fa molto caldo, però un po' di paura c'è. Soprattutto in relazione alla variante Delta? Boh, non lo so, non sappiamo mai niente di queste varianti. Ci dobbiamo anche tranquillizzare un poco, dobbiamo essere ottimisti, andiamo verso l'estate, questo virus se ne deve andare. Cosa farà quest'estate? Andrà in vacanza? Assolutamente, assolutamente, al mare e in montagna. Favorevole da un lato, però dove ci sono gli assembramenti, specialmente considerando questa variante Delta, giusto, che è presente anche sul territorio torrese, sono contrario. Cioè quando ci sono forme di assembramento sarebbe sempre opportuno indossare la mascherina. Però diciamo che deve preverere il buon senso. Dove c'è spazio, spiagge, strada così, può essere eliminata la mascherina. È preoccupato dalla situazione della variante indiana? Certamente, perché comunque questo ci fa tornare indietro di tutti i provvedimenti che sono stati, diciamo, che si sono evoluti positivamente. Adesso ritorniamo indietro nel tempo. Magari se i casi aumentano ci potrebbero essere qualche chiusura e quindi con conseguenze negative per tutti quanti. crede che la campagna vaccinale possa attenuare il rischio di una nuova ondata? La vaccinazione è l'unico mezzo per poter tornare alla normalità. Da lunedì cade l'obbligo della mascherina, cosa ne pensa? Pensa che sia una cosa giusta. Non crede che questo provvedimento possa aggravare la situazione relativa alla variante Delta? È preoccupato? No, non sono preoccupato. Se la gente ha una mascherina e non fa semplamente, penso che sia una cosa giusta. Dobbiamo osservarlo un po' tutti. A noi anziani dà un po' fastidio perché l'aspirazione è difficile, però ci dobbiamo sacrificare. Io la tratterei per un po'. Io penso che sarà un piccolo rischio ancora perché tutti questi affollamenti, tutte queste belle uscite, giustamente il commercio deve partire sicuramente, però penso che sarà un po' presto. Penso che nell'autunno, a settembre, ottobre, saremo un po' con... Ora sto parlando di questa variante Delta, dalla India. Lei come passerà quest'estate? Si è vaccinata? Io ho fatto due vaccini. C'è il certificato, c'è il Green Pass e ora ho fatto pure il tampone. Io la porterò sempre. Se sto da sola proprio, ovviamente me la tolgo, in una strada isolata, ma me la metterò sempre. Va bene così, stiamo andando bene, penso, no? Quindi tra qualche settimana toglieremo pure addirittura... Da lunedì è previsto... Quindi siamo a posto. Più di tanto costo vogliamo, però voglio fare non un appello, ma voglio invitare tutti coloro che non si sono vaccinate, che provvedano, perché è importante. Ciao! Le fiamme gialle di Trieste e Napoli, coordinate dalla Procura della Repubblica Partenopea, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni del valore di oltre 59 milioni di euro nei confronti di cinque soggetti ritenuti responsabili di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. Tale attività costituisce il proseguo investigativo di indagini che avevano già portato al sequestro eseguito in data 30 marzo 2021 nei confronti della petrolifera italiana SRL. Con il nuovo provvedimento di sequestro esteso, il GIP ha ampliato la portata dell'originaria misura abblatoria sulla scorta di ulteriori attività eseguite dai nuclei PEF Napoli e Trieste. In forza di nuovi approfondimenti è stato possibile estendere le contestazioni dei reati fiscali anche nei confronti dei gestori di fatto delle società e disporre il sequestro di provviste, anche nella forma per equivalente, in relazione ad ulteriori ipotesi di violazioni fiscali, utilizzo ed emissione di fattori per operazioni inesistenti, tanto ai rappresentanti legali quanto ai gestori di fatto delle società. L'importo sequestrato è rappresentato dalle imposte evasi ed ammonta oltre 59 milioni di euro. Le originarie contestazioni attenevano alla presentazione di dichiarazione fraudolenta di imposta per l'anno 2017 dalla petrolifera italiana SRL e all'omessa dichiarazione per l'anno sempre 2017 si aggiungono ora le ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e l'emissione di fatturazioni fasulle per l'anno 2018, per oltre 30 milioni di euro, e fittizi acquisti e gestioni di carburante da parte della petrolifera italiana, con diverse società fantasme, tra cui Italian Petroli SRL, Giuliana Petroli SRL e le ditte individuali Auletta Group e Vincent Group. Ciò ha comportato l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per circa 7 milioni di euro. Secondo la ricostruzione operata dalla Fiamme Gialle ed in regione dell'istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Napoli, la petrolifera italiana si sarebbe collocata al centro di un complesso gruppo di imprese dislocate sull'intero territorio nazionale. I titolari di fatto dell'azienda, in concorso con i gestori legali delle società, hanno venduto milioni di litri di prodotto energetico a società cartiere fittiziamente dichiarate sia esportatori abituali, che proprio in virtù di tale falsa qualifica potevano acquistare i prodotti senza applicazione dell'IVA. Successivamente le società acquirenti rivendevano gli stessi prodotti applicando l'IVA al cliente finale, che però poi non la versavano all'erario, meccanismo fraudolente o tipico della fraude carosello. Per effetto delle condotte contestate, oltre al milionario danno all'erario, la petrolifera italiana SRL avrebbe negli anni assunto una posizione dominante sul mercato, stravolgendo di fatto anche le regole della concorrenza. Controlli dei carabinieri forestali ai reggi lagni, canali bloccati dai rifiuti, trovati lungo le sponde rifiuti di ogni genere, l'attività d'indagine è durata più di un anno ed è stata svolta dai militari della stazione carabinieri forestali di Marigliano, con l'ausilio del personale della polizia locale del comune di Marigliano e personale dell'agenzia di sviluppo area nolana, uniti di un drone. Dal gennaio del 2020 fino al maggio del 2021 sono stati monitorati vari punti particolarmente critici a livello ambientale nel comune di Marigliano ed in particolare sono stati individuati tre alberi del reticolo idrografico dei reggi lagni, divenuti nel tempo vere e proprie discariche abusive. Posti sotto la lente di ingrandimento a Marigliano, gli alberi siti in via Sentino, in località Ponte dei Cani e in località Tre Torri, ai confini con il comune di Acerra. I controlli hanno interessato circa un chilometro di reggi lagni e la scena si è rivelata piuttosto critica agli occhi degli investigatori. Sono state rinvenute delle vere e proprie discariche abusive con rifiuti di ogni genere ormai avvolti nella vegetazione spontanea ed infestante. Individuati rifiuti plastici, contenitori di fitofarmaci, rifiuti combusti, carcasse di autoveicoli, parti meccaniche di autoveicoli, big bag interrati, carcasse di animali, rifiuti agricoli e urbani, fusti e lattine di metallo. Tutti i rifiuti rinvenuti negli alberi impedivano il normale deflusso delle acque, causando piccole esondazioni e l'inquinamento dell'ambiente circostante e in particolare dei campi coltivati paralleli ai canali. Durante gli accertamenti è stata coinvolta anche l'Aso, impegnata a valutare il grado di contaminazione dei prodotti agricoli coltivati in prossimità dei canali. Intervenuto anche personale della Gori, gestione servizio idico, che ha controllato due chilometri circa rifognature per individuare gli allacci abusivi per lo sversamento dei rifiuti nei canali. È risultata in tutta evidenza la mancanza di manutenzione ordinaria dei vari alberi controllati, i quali pertanto venivano tutti i posti sotto sequestro penale per smaltimento illecito di rifiuti, discarica abusiva, miscelazione di rifiuti, combustione illecita di rifiuti e emissioni non autorizzate in albero. Presentato il nuovo organigramma che gestirà le giovanili della Tutris. Lavoro di squadra e unioni di intenti sono gli ingredienti su cui si basa questa nuova collaborazione, inaugurato ufficialmente nella giornata di ieri nella sala stampa dell'Americo Liguri di Torre del Greco. L'incarico passa dal vicepresidente Vincenzo Doriano, incaricato negli ultimi anni a gestire le giovanili, ai tre imprenditori Salvatore Romano, Raimondo Cozzolino e Filippo Improta. Con orgoglio presento Salvatore Romano, Raimondo Cozzolino e Filippo Improta, tra l'altro nipote d'arte del baronetto di Posilivo, mio grande amico. Quindi stasera presento loro perché saranno delle persone importanti per il futuro della Turis, perché se così non fosse avrei sbagliato la prossima programmazione di tutta la Turis, non del settore giovanile, non della scuola calcio. È tutto un solo progetto. Tanto è vero che questa decisione che abbiamo preso io e Vincenzo assieme di poter allargare un poco la base, chiamiamolo societario, anche se così ancora non è, è perché io ho bisogno di persone come Vincenzo più vicine alla prima squadra. Perché gestire, e quest'anno me ne sono accorto, gestire una squadra in Liga Pro non è la stessa cosa che gestirla tra i direttanti. Sono imprenditore nell'ambito del corallo, quindi mi occupavo, d'altro, solamente di corallo fino a qualche tempo fa. Oggi, grazie all'opportunità che ci ha dato il Presidente con Antonio, il Vice Presidente Doriano, di poter prendere e gestire questa parte importante della società, per noi è veramente un onore. Soprattutto per me che sono aiutore al di là del fatto che ne ho detto che ho giocato da giovane, qualche partita l'ho fatta. Sono veramente molto orgoglioso di poter far parte di questo gruppo e per la possibilità che il Presidente ci ha dato. Anche io sono l'altro ragazzo di Torre del Greco, quindi per noi diciamo che l'entusiasmo e l'impegno sarà probabilmente, anzi quasi sicuramente, doppio. Ringraziamo chiaramente il Presidente e il Vice Presidente per averci dato questa opportunità. È chiaro che questo entusiasmo che noi ci abbiamo messo dall'inizio abbiamo fortemente, seriamente intenzione di tramutarlo poi in un impegno costante, importante, a partire dal primo ragazzino fino all'ultimo dei calciatori in rosa della prima squadra. Come ha detto il Presidente siamo tutti d'accordo, cercheremo di fare un tutt'uno. C'è voglia di ripartire, c'è voglia di fare bene. A noi poi è stata data questa opportunità di venire a collaborare con un club che sembra debba fare soltanto bene, sembra debba soltanto crescere e deve dare, deve portare i suoi risultati. Noi come nuovo gruppo abbiamo intenzione di collaborare, non dettiamo assolutamente alcun tipo di legge nuova, anzi siamo, come diceva poco anzi il Presidente, siamo un'unica famiglia quindi di conseguenza lavoreremo per apportare benefici soprattutto alla Turris. Presentato anche il ritiro estivo di preparazione che si terrà dal 19 luglio al 3 agosto a Campitello Matisse. Novità annunciate anche per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Il padron Colantonio, infatti, ha espresso i suoi dubbi a causa della situazione stadi non ancora chiara. Non so se quest'anno faremo gli abbonamenti perché non vorrei trovarmi nella stessa situazione dell'anno scorso perché la Turris è stata l'unica società che ha dato la possibilità a coloro che l'hanno richiesto e non tutti, questo sicuramente, e non tutti, di riavere l'abbonamento che non avevano usufruito quest'anno in corso. Però finché non verò la situazione chiara, gli abbonamenti non saranno fatti. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione chiocciolatipositi.it o chiamando al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto, l'informazione del Tg. di Tipositi vi dà appuntamento a lunedì.